Riccardo Perrezini ha la titolare della Comarc Blue Basket 1971 Treviglio, l'indomani del rientro dalla trasferta fin troppo lunga sul campo del Viola Reggio Calabria, tredicesima sconfitta, la quarto posto ormai non ha più possibilità, rimane però da conquistare la migliore posizione possibile e cercare anche di dare senso a questo campionato che obiettivamente vi ha comunque visto, malgrado qualche difficoltà in trasferta, comunque protagonisti di buone prestazioni in generale. Sì, noi ormai con la sconfitta di domenica Reggio Calabria non riusciamo ad entrare nei playoff, comunque il nostro campionato è stato abbastanza buono, adesso cerchiamo di chiudere nel migliore dei modi domenica vincendo in casa, comunque davanti al nostro pubblico quindi ci teniamo e cerchiamo di raggiungere il miglior piazzamento possibile. Mi hai detto che forse per la prima volta in quel di Reggio Calabria avete patito soprattutto dal punto di vista fisico. Sì, abbiamo patito dal punto di vista fisico per quanto riguarda le energie messe in campo perché sicuramente i nostri avversari sono stati molto molto più aggressivi di noi su tutta la partita, è avvenuto il tempo della partita, mentre noi soltanto all'inizio siamo riusciti a mantenere il loro ritmo, poi le energie sono venute a mancare e abbiamo lasciato il passo ai nostri avversari. Grazie. 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 Grazie a tutti